È così bella. È vero. Stai bene? Sarà tosta, ma i suoi sono buoni con noi, non ci giudicano. Però vogliono un nome biblico. Che ne dici di Aaron? È più bello di Mosca. Lo so che è una pazzia, siamo giovani, ma... L'altro giorno quando ho sentito quel cuoricino, non lo so, mi ha davvero reso felice. È bello, Poppy. Davvero bello. E non dico altro. Non parto. Ma perché? Non lo so, non va. Ma riprovaci, vai. Mi dispiace, dosanti che non è colpa mia. E per il tranquilla, metti in folle e la spingiamo. Ok. Vai, Poppy. Spendeteci aiutate a spingere o restate lì a suonare. Non suoniamo più. Va bene, scusaci. Grazie. Signorina. Scusa, si è scappato. Ehi. Ma perché non cresci tu un po'? Ehi, ma dove vai? Tutto a destra, April. Ok. Ferma. Bene. Che faccio? Chiamo il carattrezzi? No, ci penso io. Scusa per i miei amici. Si credono spiritosi, ma sono solo degli idioti. Amanda, vai, vieni. Sì, andiamo, dai. Ok. Non sei tu, andiamo. Amanda, dai, è tardi. Vai, non farli aspettare. E muoviti. Ok. Mi decidi o no? Grazie dell'aiuto. Amanda. Già. Quando vuoi. Ah, finalmente. Stai perdendo tempo. Vai, andiamo. Grazie. A dopo. Non vorrei che ci restassi male, perché sei mio cugino e ti voglio bene. Ma sei uno stupido. Non hai visto che quella ragazza spingeva la macchina per parlare con te? Era gentile, nient'altro. Sì, gentile. Ed è uno schianto. Un vero schianto. Metti in moto, dovrebbe partire. Grazie, Dozon. Vai, andate. Ci vediamo dopo. Ho girato la chiave e non parte. Tu che dici? Vendetta karmica per aver suonato il claxon? L'universo dispensa solo giustizia. Oh, allora parli. E sei anche spiritoso. Ciao, Amanda. Ciao. Ciao.